Come è andato il primo incontro post-rottura tra Ilari Blasi e Francesco Totti? Da quanto riporta il Corriere della Sera non è andata molto bene. Scopriamo tutti i dettagli e perché si sono rivisti. Dopo diverse settimane dall'annuncio della rottura, Ilari Blasi e Francesco Totti si sarebbero rivisti per la prima volta a Savaudia, il Corriere della Sera racconta l'incontro tra i due ex e cosa sarebbe successo. Leggi anche, Ilari Blasi oggi a Savaudia, la foto in bikini mostra quanto è dimagrita Ilari Blasi e Francesco Totti incontro a Savaudia, ecco cosa è successo guerra fredda tra Francesco Totti e Ilari Blasi. Dopo l'annuncio della rottura pare che i due ex si siano rivisti per la prima volta a Savaudia. Un incontro che, come riferisce il Corriere della Sera, sarebbe stato utile solo a darsi il cambio nella famosa villa di Savaudia, location di tutte le loro passate estati. La coppia si sarebbe salutata velocemente, scambiando le chiavi di casa e rivolgendosi un freddo a rivederci, si legge che Totti dovrebbe restare in vacanza nella località balneare con le due figlie e i domestici fino a Ferragosto, mentre il primogenito Christian farà avanti e indietro per via degli impegni con l'Under 18 della Roma. Ilari Blasi lascia la casa di Savaudia a Totti, un freddo a rivederci, nessun incontro pacifico, dunque, tra Ilari Blasi e Totti a Savaudia. Ecco cosa riporta il Corriere del Sera in merito al loro primo avvicinamento post-rottura, nel frattempo gli avvocati, che stanno curando la separazione dell'anno, sono impegnati a districare diversi nodi patrimoniali. Ilari Blasi, le foto della sua estate da singola Savaudia mentre Totti, nelle ultime settimane, ha preferito mantenere un profilo basso e non dare troppo nell'occhio, Ilari Blasi ha deciso di mostrarsi in tutta la sua bellezza. Dal suo rientro dalla vacanza in Tanzania con i figli, la conduttrice ha deciso di condividere con i suoi followers scatti quotidiani della sua estate a Savaudia. Eccoli di seguito, foto di chiocciola Ilari Blasi, i.g., foto di chiocciola Ilari Blasi, i.g., foto di chiocciola Ilari Blasi, i.g., foto di chi foto di chiocciola Ilari Blasi, i.g., restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito e le curiosità sull'incontro di Ilari Blasi e Francesco Totti a Savaudia. Ci vediamo nei prossimi video.